La sanità veneta andrà a processo, oramai è deciso, ma fuori dalle aule del tribunale, intanto, è già battaglia tra scienziati Crisanti contro Palù. Mentre al banco degli imputati, fra un anno, siederanno il professor Roberto Rigoli, che in periodo Covid era direttore delle microbiologie del Veneto, e Patrizia Simionato, allora direttore generale di Azienda Zero. L'unica cosa che considero sulla base di questa sentenza è che l'esposto che ho fatto evidentemente aveva delle solite basi. Così il professor Crisanti, ex direttore delle microbiologie del Veneto, oggi senatore del PD, e col dibattimento sarà stabilito se è stato fatto tutto correttamente o meno. Il grande accusatore della sanità veneta oggi mantiene toni bassi e pacati. Non ho nulla né contro Rigoli né contro la Simionato, né la considero una vittoria mia. Chi alza inaspettatamente i toni è il professor Giorgio Palù, presidente dell'AIFA, lo stesso che defini Crisanti zanzarologo. La difesa di Patrizia Simionato, infatti, ha presentato una consulenza firmata proprio da Palù, che in 20 pagine difende i due imputati, ma colpisce con durezza il lavoro di Crisanti. Spiega che i test Abbott già erano stati autorizzati dall'FDA, validati e ritenuti idonei. Eseguire ulteriori indagini sarebbe stato solo sperpero di denaro. Ma afferma anche Tranchant che lo studio invece del microbiologo non è scientifico. Insomma, è guerra fra scienziati. La regione, dal canto suo, non ha mai messo in dubbio le scelte fatte in quei momenti complicati. Processare i tamponi molecolari richiedeva troppo tempo e i numeri dei test rimanevano limitati. Quel test fu accettato e preso da alcuni come una grande novità. E poi è dimostrato che lo è stata e ha cambiato il corso della diagnostica, quantomeno degli screening di massa. E dall'altro, devo dire che qualcun altro l'ha presa molto male. La giustizia farà il suo corso, il tempo farà ordine. Ma tre anni fa il mondo era impreparato, aveva le mani nude.